ciao amici siamo oggi su una cintroensi 3 terza serie questa in particolare del 2018 vediamo ora come resettare la spia dei pneumatici se si dovesse accendere la spia dei pneumatici allora prima cosa spia accesa si controlla la pressione delle gomme dopodiché si va qua sul menu si schiaccia le impostazioni della vettura e alla seconda voce vedete il reset segnalazione pneumatici sgonfi si clicca accertarsi di aver regolato la pressione facciamo una realizzazione sì pressione registrata ok ciao